Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Loredana Bertè ha dovuto posticipare improvvisamente la sua performance al Teatro Brancaccio di Roma, inizialmente prevista per questa sera, a causa di un malore inaspettato che ha reso necessario il suo ricovero ospedaliero. Dal profilo Instagram dell'artista si legge, siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura. Stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve. Secondo il post su Instagram, Bertè si trovava a Roma già da ieri e attendeva con entusiasmo il suo spettacolo, sottolineando che era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024. Fonti dell'ADN Kronos rivelano che la cantante ha iniziato a soffrire di dolori addominali questa mattina, e con l'aggravarsi del malessere è stata esaminata da un dottore, che ha suggerito il suo ricovero. Pertanto, è stata trasportata in una clinica privata a Roma. Il tour di Loredana Bertè, partito con successo a Milano il 5 marzo dopo il trionfo a Sanremo con il brano Pazza, aveva programmato lo spettacolo di stasera a Roma come seconda tappa. Questa data, come riportato dall'ADN Kronos, era in realtà già un rinvio di un precedente concerto mancato il 19 aprile dello scorso anno. Il concerto di stasera, per il quale i biglietti sono stati tutti venduti, avrebbe dovuto ospitare circa 1600 spettatori, molti dei quali erano già in fila fuori dal Teatro Brancaccio quando è stata annunciata la cancellazione. Lascia un messaggio di sostegno a Loredana. Ciao a presto.